L'obiettivo principale della mia ricerca è capire come la microstruttura e le parti più piccole della materia metallica rispondono a processi di fabbricazione anche innovativi come l'additive manufacturing e a trattamenti termici e a qualunque altra deformazione possibile in modo da sfruttare il loro comportamento e adattarlo alle necessità dell'azienda della ricerca. I risultati delle ricerche che sono attualmente in corso e che abbiamo progettato di attuare in un futuro molto prossimo avranno ricadute enormi speriamo sulla vita di tutti quanti soprattutto in termini di alleggerimento di strutture per la mobilità sostenibile per la riduzione dei consumi di carburanti e per il miglioramento della qualità della vita di tutte le persone.